Verrà riattivato a partire da oggi 25 novembre il servizio di ludoteca comunale presso l'oratorio Santa Maria delle Grazie in piazza della Repubblica nei locali siti al primo piano sarà operativo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 17 e 30. Il servizio finanziato con fondi comunali è aperto ai bambini dai 6 ai 12 anni. Le iscrizioni sono aperte e potranno essere effettuate direttamente presso l'oratorio negli orari in cui è attivo il servizio oppure presso l'ufficio servizi sociali. Verrà data la preferenza ai bambini che vivono condizioni di disagio sociale ed economico. Riattiviamo, afferma il sindaco Adamo Coppola, un servizio molto utile e notevolmente apprezzato dalle famiglie. Oltre a rappresentare un ausilio per i compiti, costituisce anche uno spazio ludico e di integrazione per i bambini partecipanti.